Ci sarà anche l'equitazione tra le discipline sportive inserite nella tappa retina dei prossimi giochi nazionali estivi Special Olympics. Le prove relative a questa specialità si svolgeranno all'Arezzo Equestrian Center, uno dei più grandi ed importanti showground dedicato all'equitazione, situato alle porte della città e già palcoscenico di manifestazioni sportive di rilievo. Mentre si avvicina la data di inaugurazione della manifestazione in calendario per mercoledì 24 aprile, i ragazzi di All Stars impegnati in questa disciplina proseguono quotidianamente gli allenamenti. Gli atleti speciali sono affiancati da atleti partner negli allenamenti e nelle provi di equitazione unificata, dedicate alle discipline olimpiche della monta all'inglese e a quelle della monta western. La lezione si sviluppa partendo dai classici esercizi di riscaldamento che si svolgono sul cavallo per acquisire maggiore equilibrio fino ad arrivare ai vari esercizi più complicati a tutte e tre le andature, quindi passo, trotto e galoppo. I nostri atleti gareggeranno nelle discipline che riguardano sia la monta western che la monta all'inglese, che fanno parte di tutto il panorama delle discipline di Special Olympics. I nostri ragazzi in particolare andranno da giochi come il pole bending che proviene dalla monta western fino a dressage che invece proviene dalla monta all'inglese e presenta delle difficoltà un po' maggiori soprattutto per quanto riguarda la memorizzazione del percorso. I nostri atleti sono sempre pronti per poter affrontare delle sfide nuove. Quindi diciamo che quello che facciamo adesso che ci stiamo avvicinando all'evento è quello che facciamo durante tutto l'anno un po' da sempre.